Vittoria molto importante, quella del Brescia Calcio Femminile oggi qua a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Una delle protagoniste della gara, Laura Fusetti, che si è messa in mostra con un'ottima prestazione. Una gara non facile, Laura, oggi. No, oggi era una partita difficile. Il Sassuolo comunque è una squadra molto aggressiva e si è vista da subito, con anche molte doti tecniche e diciamo che noi abbiamo fatto fatica ad andare in vantaggio e poi a raddoppiare. Quindi in queste situazioni più uno fa fatica a segnare, la squadra avversaria si galvanizza e quindi è ancora più difficile. Però siamo state brave, non abbiamo sbagliato niente e alla fine comunque abbiamo fatto il raddoppio e poi abbiamo portato a casa la vittoria. Forse il limite oggi del Brescia è stato quello di non chiudere subito la gara, c'era la possibilità di chiudere già nel primo tempo la pratica a Sassuolo e invece si è tenuta viva la speranza fino all'ultimo delle nero-verdi. Beh, abbiamo avuto molta occasione nel primo tempo, quindi potevamo benissimo chiudere la partita. Sa di fatto che il campo non era il massimo, quindi magari il sottoporta era un po' difficile, però l'importante è che non abbiamo mollato, ci abbiamo creduto ed eravamo sempre comunque nella loro area in perserire il portiere. Comunque abbiamo fatto male e finalmente poi a metà secondo tempo siamo riuscite. Valentina Bergamaschi, oggi un gol nei primi minuti di gara, su un campo difficile, una marcatura che è servita al Brescia poi a vincere, a ottenere altri punti, ma c'è stato qualcosa che oggi non è andato, un po' di stanchezza, potevate chiudere prima la gara? Sì, sicuramente è stata una gara un po' difficile, ma dovuta un po' alla stanchezza, un po' al campo, però credo che il nostro l'abbiamo fatto, l'importante era portare a casa i tre punti e niente, questo l'abbiamo fatto. Oggi l'aveva detto il mister che il Sassuolo è una squadra che ha cambiato molto rispetto alla gara di andata e vi ha messo in difficoltà in alcune circostanze, però voi poi siete riuscite a far uscire fuori il maggior tasso tecnico. Come hai visto la partita oggi? No, sicuramente il Sassuolo ha molte qualità e ci ha messo in grosse difficoltà oggi, sia a livello di gioco, sia a livello di marcature, ci ha attaccato alte, ci ha messo un po' in difficoltà. Comunque non è una squadra che merita il posto in classifica che ha, perché ha delle ottime qualità, delle grandi giocatrici di esperienza. Innanzitutto chiedo a mister Piovani, se siamo molto diretti, subito partiamo così in tromba, se oggi la prestazione del Brescia l'ha soddisfatto o in certi frangenti l'ha fatta arrabbiare un po'? Arrabbiare un po' perché abbiamo avuto tantissime occasioni per poterla chiudere e l'abbiamo tenuta viva fino alla fine. Poi solo all'ottantesimo abbiamo fatto il gol del 2-0, eravamo un po' sufficienti oggi, nonostante le ragazze abbiano sempre messo a livello tattico tante intensità, però quando arrivavamo lì eravamo nell'ultimo passaggio molto sciolte, così non va bene. Dobbiamo essere cinici e cercare di chiudere prima le partite perché poi alla fine o una palla inattiva o una palla buttata dentro ti può creare delle difficoltà. L'obiettivo, come abbiamo detto, era quello di portare a casa i tre punti, l'abbiamo ottenuto. Su un campo non bellissimo, anzi questo aiuta soprattutto le squadre che si difendono, anche se, devo essere sincero, come ti avevo detto in settimana, ho trovato un sassuolo totalmente cambiato che, come ha detto prima Valentina, non merita sicuramente la classifica che ha in questo momento. Hai parlato un po' di sufficienza in alcune circostanze, forse l'episodio che più l'ha fatta arrabbiare è stato il pallonetto di Daniela Sabatino quando poi poteva chiudere sul 3-0. Sia Daniela che Valentina Giacinti potrebbero avere 20 gol a test in campionato, con le occasioni che hanno avute. Noi durante la settimana ci lavoriamo, arriviamo lì parecchie volte e dobbiamo essere, come ho detto prima, più intensi, avere più intensità quando arriviamo lì e cercare di chiudere prima le partite. Comunque, ripeto, è bene perché se ci arriviamo vuol dire che creiamo tanto, è una cosa positiva. Si può dire, visti anche i risultati di oggi della classifica, che ormai quello tra Juventus e Brescia sta diventando un po' una guerra di nervi, chi sarà più concentrato da qua alla fine e poi sarà chi potrà vincere il campionato? Come ti dico sempre, io non guardo la Juve, guardo il Brescia. Il Brescia oggi ha fatto una vittoria, la Juve ha vinto e noi andiamo avanti per la nostra strada a cercare di fare sempre bene quello che abbiamo fatto. Sappiamo che, come ho detto altre volte, noi abbiamo un margine di errore minimo, la Juve ha più margine di errore, quindi guardiamo noi stessi e andiamo avanti su questa strada. Ultima domanda, che partita si aspetta a questo punto a Tavagnacco contro il Tavagnacco? Il Tavagnacco adesso è a 11 punti da noi, farà la partita della vita per cercare di rientrare nel mischione delle... quindi ci aspettiamo una partita tosta, il Tavagnacco è una squadra che qua da noi l'andata va persa 2-0, giocherà col coltello tra i denti, ma sono tutte battaglie da qui alla fine, perché il Tavagnacco è dietro, ma sarà più dura soprattutto con quelle che giocheranno per salvarsi, perché non è facile. Grazie mister. Voi, grazie. Grazie a tutti.